Il ciclo di audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge 243 Fiano recante misure per la prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista e della proposta di legge 2301 Perego di Cremnago recante l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di estremismo violento terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. Ricordo che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dell'audito e dei deputati secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In proposito ricordo che anche ai deputati collegati in videoconferenza non è consentito esporre cartelli o scritte secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Faccio inoltre presente per i deputati partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla presidenza soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento che deve essere ovviamente udibile. A tale fine occorre quindi assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile. Quanto ai deputati presenti in aula nel corso delle audizioni ricordo che per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza potrebbero non essere visibili nella schermata di videoconferenza né nella ripresa sulla web tv della Camera. Ricordo inoltre che secondo quanto stabilito dalla delibera dei deputati questori del 23 aprile 2020 tutti i partecipanti ai lavori che si svolgono nell'aula di Palazzo Montecitorio e in tutte le aule in cui si riuniscono gli organi parlamentari devono indossare mascherine protettive le quali devono essere indossate correttamente soprattutto quando si parla. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza di Diletta Berardinelli, expert pool e coordinatrice del gruppo di lavoro Prisons della Radicalization Awareness Network della Commissione europea. Avverto che in base alle disposizioni adottate dall'Aggiunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione della nostra ospite su tale forma di pubblicità che sarà disposta a voi da parte sua non vi siano obiezioni. Non vi sono. Grazie, dispongo dunque l'attivazione dell'impianto. Ringrazio la dottoressa Berardinelli per aver accolto l'invito della Commissione e le chiedo cortesemente di contenere l'intervento in circa dieci minuti in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande. Prego. Buongiorno. Prima di tutto vorrei io ringraziarmi, avete dato la possibilità di audirmi e spero che le mie considerazioni possano essere utili a fine dell'iter di queste due proposte di legge. Proposte di legge per me di massima importanza perché finalmente vanno a coprire un vuoto legislativo ormai da tempo troppo presente. Quindi un grazie immenso agli onorevoli che si sono fatti carico di studiare questa materia per far sì che leggeggio lavoro dell'intelligence dall'aspetto sicuritario italiano finalmente incontri il soft power della società civile. Questa sinergia è fondamentale per contrastare e prevenire i fenomeni della radicalizzazione violenta come hanno fatti ben intuito la maggior parte degli stati europei che sono dotati di un organigramma chiaro per intervenire nelle scuole, nelle carceri, nella società civile e anche in caso di attacco. Quindi innanzitutto un grazie. Prima di iniziare appunto a condividere le mie considerazioni brevemente mi vorrei presentare anche per inquadrarle meglio. Io non sono un'accademica, anche se ho un background in sociologia, ho anche svolto diverse ricerche, l'ultima è sul sistema penitenziario, ma sono una cosiddetta practitioner, cioè lavoro sul campo, ho iniziato la mia carriera come cooperante internazionale e già da vent'anni fa in villaggi remoti del Kenya ho sentito la parola da Cihad. Da qui ho iniziato il mio studio, la mia passione sull'Islam sia a livello geopolitico e sul dialogo interreligioso, che mi ha portato la fortuna di praticarlo anche nel contesto italiano a Torino, essendo stata coordinatrice di un forum per le politiche di integrazione noi cittadini del Comune di Torino, che tra le tante attività ha portato avanti l'assistenza spirituale di tenuti di fede islamica nel carcere di Torino, ossia all'inserimento di imam e questa pratica è stata prodroma anche dell'accordo DAP-Ukoi e tuttora è in vigore questa pratica, non abbiamo firmato nessun protocollo, ma però è funzionante, anche visto gli ultimi articoli che, non so se li avete appunto letti, sull'accordo del DAP-Ukoi che ha generato appunto, nonostante questo accordo, una difficoltà dell'inserimento dell'imam all'interno delle carceri. Sono state anche coordinatrice scientifica di un progetto europeo, sempre sulla prevenzione e contrasto all'interno delle carceri, finanziato dalla DG Justi, che mi ha visto formatrice sia per i volontari penitenziari che in imam che i garanti e attualmente sono educatrice per la comunità Papa Giovanni XXIII in carcere, sia con attività di gruppo che individualizzate, che anche nelle nostre comunità educanti per detenuti applicando il metodo APA, un metodo brasiliano che ha un notevole impatto nella riduzione del tasso della recitiva. Da luglio ho ricevuto questa nomina della RAN nel gestire, nel coordinare questo gruppo di lavoro insieme a una collega bulgara. Questo per inserire anche il mio intervento in una cornice che forse si focalizzerà più sul sistema penitenziario, ma spero che questo possa essere lo stesso utile. Iniziando a condividerle le considerazioni nate nella mia lettura di queste due proposte di legge, inizio con la proposta di legge 243 proposta dall'onorevole Fiano. Come anche ho potuto cogliere da persone che avete già udito, sarebbe interessante allargare il raggio d'azione non soltanto all'estremismo violento di matrice jihadista, ma considerare un ampio spretto, includere altri tipi di estremismi violenti di altra natura, ma per due ragioni principali. La prima è per adeguarci e allinearci alla terminologia europea, alla legislazione europea, che ha ritenuto più efficace ed efficiente includere altre forme di estremismo. La seconda ragione di importanza è quella che emerge dagli dati statistici anche rappresentati e pubblicati nell'ultimo dossier di Europol T-Stato 2020, dove si afferma sempre di più che nel 1219 una rivelanza di attentati di matrice non solo jihadista. Quindi ecco, questo sarebbe veramente importante, non perdere questa occasione, un peccato non includere altre forme di estremismi violenti. Andando ad analizzare la legge 243, al punto 1 dell'articolo 2 vedo l'istituzione del CRAD, che è veramente un mio applauso nel generare un centro nazionale così importante, istituito presso il Dipartimento per le libertà civili. Sottolineo anche qui l'importanza, anche se è citato dopo, di collaborare in stretta sinergia anche con il Ministero di Giustizia, nella fattispecie con il DAP, l'UEPE e la giustizia minorile, in quanto le carceri sono un luogo innegabilmente pericoloso, sia per nel momento del rilascio dei detenuti condannati, sia, come sappiamo, di formazioni di possibili radicalizzati. E nel caso in cui venisse accolto l'importanza di allenarsi a un linguaggio europeo e allargarsi allo studio di estremismi violenti in generale, forse si potrebbe anche rinominare il CRAD, suggerisco INCEV, un centro nazionale sugli estremismi violenti. Ma a prescindere dalla terminologia, quello che ritengo appunto importante è condividere con voi l'importanza che sia il CRAD che i CCR regionali siano realmente rappresentativi e inclusivi della società civile, perché ho visto tanti organismi e questo aspetto è fondamentale per il loro funzionamento. E sottolineo l'importanza di includere, di convolgere tutte le sigle dell'associazionismo islamico per far sì che tutte si sentano partecipi e protagoniste, questo per diverse ragioni. Uno per trovare una via italiana che nasca anche dall'esperienza europea, evitando gli errori commessi, perché partendo in ritardo possiamo anche studiare appunto le cose che sono funzionate di meno e che ha generato infatti una diffidenza e perciò a volte un'esclusione di un Islam così definito politico. Ma vista anche la frammentazione tra le diverse sigle dell'associazionismo islamico italiano, l'Italia deve accompagnare le stesse con un approccio di capacity building al dialogo, evitando che dei flussi politici provenienti soprattutto dai paesi d'origine, provenienti soprattutto dalla prima generazione, possano inficiare questo percorso di condivisione alla prevenzione e alla radicalizzazione violenta. Questo difficile percorso si percepisce anche dal fatto che ancora non è stata firmata un'intesa e spero che l'attuazione di queste due proposte di legge acceleri anche tale percorso, perché è importantissimo al fine della prevenzione della radicalizzazione violenta nelle carceri. Infatti come voi tutti siete consapevoli, le carceri sono uno dei luoghi, degli hotspot più rilevanti per i percorsi di radicalizzazione violenta. L'intesa permetterebbe di garantire una presenza stabile alle guide spirituali, non solo uomini, non solo imam, ma anche donne, nei 200 istituti penitenziari in quanto andrebbe a regolamentare sia la formazione che il riconoscimento di queste stesse figure ed una loro eventuale retribuzione come avviene anche per i cappellani. Da diventare queste figure fondamentali nei team multiagenzia all'interno delle carceri. Ma la loro presenza non è solamente fondamentale per contrastare il fenomeno degli imam fai da te all'interno delle carceri che possono veicolare un Islam politicizzato e di odio, ma è anche importante per il percorso appunto di recupero degli stessi. Quindi mi permetto qui di sottolineare, anche se forse sto andando fuori dalle vostre competenze, che il sistema penitenziario se non porterà avanti delle serie riforme sull'organico che come sono già emerse durante i lavori degli Stati Generali sull'esecuzione penale, questo ostacolerà l'implementazione di azioni, di progetti di prevenzione e contrasto. Perché come possono le carceri attuare progetti di disengagement, di monitoraggio del rischio anche attraverso l'utilizzo dei risk assessment tools, se l'organico dell'area giuridico trattamentale è sotto il 36% rispetto alla media europea? Come possono a Torino 17 tra educatori, criminologi e mediatori interculturali intervenire con un approccio multidisciplinare su 1500 detenuti? Procedendo sull'analisi della legge, volevo anche ritornare all'articolo 1 che parla di favorire processi di deradicalizzazione. Un altro concetto importante che volevo sottolinearvi è il concetto di disengagement che non ho visto citato nessuna delle due proposte di legge. Questo concetto è importantissimo ai fini del prevenire e contrastare la radicalizzazione perché si sono resi conto appunto paesi europei ma non solo, esperienze che vanno dal Canada all'Australia che i processi di radicalizzazione quindi di cambiamento del pensiero cognitivo di una persona sono difficilissimi da attuare. Oggi si parla sempre più di disengagement, di disingaggio, di disimpegno dall'uso della violenza quindi di fare anche un'attenzione a questi percorsi che se volete posso anche poi dettagliatamente inviarvi del materiale sia di centri di eccellenza di studio come la ICCT ma sia anche di pratiche che sono state portate avanti con un impatto più efficace ed efficiente di processi solo di deradicalizzazione. Per quanto riguarda invece il punto 2 sempre dell'articolo 2 della legge 243 delle funzioni del CRAD mi permetto anche di sottolineare l'importanza di mappare anche i progetti e le azioni locali e europee che finora si sono svolte in Italia perché io ho potuto fare anche questo lavoro quando sono stata coordinatrice scientifica di mappare il cosiddetto sparring practice sia in Italia che all'estero e mi sono resa conto della nostra grande originalità, queste grandi pratiche che hanno un grande impatto che purtroppo però finita i fondi a disposizione che avevano vinto o percepito non sono state messe a sistema ed è un peccato perché a volte pensiamo di dobbiamo reinventare la ruota quando in realtà abbiamo delle pratiche notevoli di eccellenza e ne voglio citare soltanto due che si sono focalizzate soprattutto sul ruolo del dialogo interreligioso all'interno del carcere. Il progetto Simurg nel carcere di Lombarde che ha visto il coinvolgimento della comunità musulmana, ebraica, cattolica e buddista e che ha fatto un lavoro all'interno del carcere sia con la polizia penitenziaria che con lo staff penitenziario e con i detenuti creando una relazione anche tra di loro, questo è un altro aspetto importante, il concetto di relazione. E un altro progetto DUSTOR svolto nel carcere della Dozza di Bologna nato dall'idea di Fra Ignazio De Francesco, un frate d'Ossettiano e la piccola famiglia dell'Annunziata che ha visto partecipi accademici, mediatori interculturali e comunità musulmana. Un laboratorio di ricostruzione, di scrittura di una nuova costituzione basata su dei valori comuni che l'hanno scritta detenuti di diverse fedi e ha avuto la possibilità di conoscere un detenuto che grazie a aver frequentato questo corso ha bloccato il suo processo di radicalizzazione e lo abbiamo anche utilizzato poi come testimonian. Quindi voglio sottolineare l'importanza di attività sia all'interno del carcere che nella società civile e nelle scuole, di progetti di dialogo interreligioso, di giustizia riparativa, di coinvolgimento di ex terroristi, di qualsiasi matrice come testimoni di un disengagement dalla violenza. Spero quindi che queste due proposte di legge possano aiutare il sistema penitenziario a creare una sinergia sempre di più con l'associazionismo islamico e non solo per portare avanti e sperimentare percorsi di prevenzione e contrasto sia personalizzati che individualizzati che di gruppo. Così come è urgente anche la formazione di tutto lo staff penitenziario compresi le guide spirituali, i volontari, portando sempre e attuando sempre più il concetto di sicurezza dinamica, altro strumento fondamentale per creare una relazione tra operatori e detenuti che sia ai fini securitari di valutazione del rischio del detenuto nel momento o nella fase di rilascio eviti tragici avvenimenti come sono successi in Austria e in Inghilterra. Infatti la relazione tra detenuti e staff penitenziario è un fattore fondamentale per rompere quel meccanismo di disumanizzazione del nemico e rompere il coinvolgimento nell'uso della violenza e nell'annientamento nella società o nelle carceri. Infine ecco sempre in articolo 2 leggo menzionata la RAN e qui non mi è chiaro soltanto una cosa ma sottolineo che appunto a scanso di cui voci la RAN non eroga fondi però sottolineo anche l'importanza di creare sempre più una stretta sinergia con questo organismo che ha diversi gruppi di lavoro, nuovi in totale, un network importantissimo per la condivisione di buone pratiche. Dal 2015 ne faccio parte ed a volte è frustrante vedere la poca rappresentatività dell'Italia nei suoi gruppi di lavoro. Spero sia quindi che con il CRAD e con i CCR regionali si possa sempre più collaborare e disseminare competenze ed esperienze con la RAN anche per testimoniare le nostre eccellenze italiane a questo organismo e inoltre sarebbe anche aspicabile creare una sinergia sempre dei CCR che leggo ma anche con i coordinamenti locali nati sui territori. Per esempio porto l'esempio di Torino, forse un buon esempio a Torino è appena nato un tavolo per la prevenzione e contrasto degli estremismi violenti presso il Comune di Torino, inoltre abbiamo anche la consulta dell'Islam e il Comitato Interfedi. Passando invece sulla proposta di legge dell'On. Perogo, ringrazio anche qua e vedo il grande lavoro fatto e anche un plauso anche all'introduzione che ben descrive il fenomeno coinvolgendo appunto tutti gli aspetti degli estremismi violenti. Tuttavia poi noto però nella declinazione degli articoli una focalizzazione principale e prioritaria sempre sulla sull'estremismo violento di matrice già vista. Quindi tornando all'articolo 1, C, D e F amplierei lo spettro se fosse possibile anche agli estremismi violenti di altra matrice. E nel comma E aggiungerei volontari anche penitenziari e nell' F se è appunto anche il coordinamento, una connessione con la RAN. Concludo ringraziandovi ancora di cuore per questo difficilissimo lavoro che state portando avanti, per la sicurezza delle nostre comunità, dotando finalmente di un organigramma chiaro e pragmatico che possa coinvolgere un dialogo funzionale basato sulla fiducia e la relazione le comunità stesse e le istituzioni, perché solo così si può sconfiggere e destrutturare i fenomeni di odio, di pregiudizio e violenza, accompagnando sempre di più una società sempre più polarizzata verso un riscoperto senso di appartenenza e cittadinanza comune. Grazie. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Berardinelli. Chiedo ai colleghi presenti in aula e collogati da Romoto se c'è qualcuno di loro che intende intervenire. Da remoto non mi sembra. Grazie allora dottoressa Berardinelli per il suo contributo al dibattito. La ringrazio a nome Emilio e dell'intera commissione. Buon lavoro. Grazie.